Grazie a tutti. La luce del sole è qui. Puoi prenderti una pausa? La luce del sole è qui. Puoi prenderti una pausa? La luce del sole è qui. Puoi prenderti una pausa? La luce del sole è qui. Puoi prenderti una pausa? 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 Allora potremmo incontrare una gran quantità di persone, soli e sofferenti, nei prossimi giorni, nei mesi e negli anni a finire. E quando loro ci chiederanno che cosa stiamo facendo, voi potete rispondere loro, noi ricordiamo. Grazie per la visione!